Rimpiazzare un prodotto che da svariati decenni svolge egregiamente il proprio lavoro oppure aggiornarlo per renderlo ancora più funzionale, anche se non è più reperibile alcun tipo di accessorio? Nel dubbio, ma ispirato dai vari progetti della buonanima di Leonardo da Vinci, decido di trasformare un vecchio sbattitore anni 80 in un'impastatrice, usando qualche pezzo di buon legno di faggio, una manciata di viti, una cerniera, un paio di corde, ed un pentolino. Certo, immagini forti che potrebbero turbare profondamente i puristi del consumismo usa e getta, ma la soddisfazione di realizzare la qualsivoglia cosa con la propria mente e le proprie mani non apprezzo e poi la pizza, a maggior ragione se consentore di faggio, piace a tutti. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse initare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto! Grazie per la visione! Ciao! Grazie per la visione! 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 Grazie. 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 Grazie.